Io devo dirti una cosa molto importante. Guarda che è inutile che cerchi di ricomprarmi con un regalo. Aspetta, non aprirlo. Ma come non aprirlo? Mi fa regalo e non lo devo aprire. Che fa, prendi in giro? No, no, non è questo, però adesso dammelo. Perché? Perché lo voglio aprire io. Ci tengo. Perché sei così premuroso? Beh. Ah, ho capito. Che hai capito? Voi uomini fate regali quando combinate qualche danno. Che hai fatto ieri se neanche il bosco? Non ho fatto niente. Di che cosa ti devi far perdonare? Ma di niente, che dici? Di solito, più è grosso il regalo e più è grossa la colpa. Senti amore, non ho fatto niente, non è come pensi. Adesso però me lo dai. Lascia stare il mio regalo. Niente, io e te parliamo due lingue diverse. Però ti prego, non aprirlo. Ancora. Sai che cosa vorrei? Vorrei che tu fossi al posto mio e io al posto tuo. No! Luna, hai rovinato tutto. Ad Alberto che mi hai fatto? A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.